E' possibile che una ragazza abbia bevuto una lattina di sperma? Perché? Le vendono? No, no, no. Ma se non è stato fatto sessorare con tanti ragazzi, e alla fine ha ingerito un quantitativo di sperma a fare il 33 cicci, cioè una lattina, e ti dice che non è più una leggenda metropolitana, una fantasia. Beh, una fantasia se anche fosse. Che ci vede per fanno? Non so. Forse. Ciao. Un arresto cardiaco. Un anno avuto un arresto cardiaco. No, c'è un passaggio. Chiamo un'ambulanza? No, no, sto bene. Chiamo un dottore. Non chiamare, su, no. Sto bene. Oddio, papà, che spavento, mi hai fatto prendere. Mamma to, no, stai la domanda, mi sono qui. Corazzo. No, è che è successo. No. Crako callano, ha olaf. Grazie.